Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, affondi frontali. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o narcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching quadricipiti. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore incrociato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching quadricipiti. 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sumo squat ad una gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi in terra. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni la sempre ben dritta per evitare problemi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tieni le sempre nasse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching polpacci. 3, 2, 1, via! Non piegare la schiena. Tenila sempre ben dritta. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non piegare la gamba per non diminuire l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sollevamento del bacino. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching glutei. 3, 2, 1, via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, distensioni perpettorali con braccia aperte. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo. Tieni la testa sempre ben poggiata al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, croci inclinate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Non sforzare il collo. Può aiutarti fissando un punto sul soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching spalle e dorsali seduti. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. Non inarcare schiena e collo. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, piegamenti sulle braccia con rotazione, ginocchia a perla. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui dei piegamenti sulle braccia semplici. Non inarcare o piegare la schiena durante l'esercizio. Per riuscirci, mantieni l'addome ben contratto. Fai attenzione a non ruotare solamente il busto. Spalle e bacino si muovono contemporaneamente ed il braccio è ben disteso quando sale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching braccia e pettorali. Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Per riuscircizio... Grazie a tutti.